Il treno regionale 5301, di Trenitalia, delle ore 6 e 55, per Roma Termini, è in partenza dal binario 1. Ferma a Venafro, Cassino. Il treno regionale 5185, di Trenitalia, delle ore 8 e 46, per Napoli Centrale, è in partenza dal binario 2. Ferma a Venafro, Vairano Cajanello, Caserta. Il treno regionale 5186, di Trenitalia, proveniente da Caserta, è diretto a Isernia, delle ore 9 e 56, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 513, di Trenitalia, delle ore 11 e 05, proveniente da Roma Termini, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 5190, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Isernia, delle ore 13 e 49, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 5189, di Trenitalia, proveniente da Isernia, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 14 e 27, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Venafro, Sesto Campano, Vairano Cajanello, Capua, Santa Maria Capua Vetere, Caserta, Cancello. Il treno regionale 5178, di Trenitalia, delle ore 15 e 45, proveniente da Napoli Centrale, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 5193, di Trenitalia, delle ore 17 e 06, per Caserta, è in partenza dal binario 1. Ferma a Venafro, Vairano Cajanello, Teano, Sparanise, Capua. Il treno regionale 5127, di Trenitalia, delle ore 19 e 41, proveniente da Roma Tiburtina, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 5262, di Trenitalia, delle ore 21 e 12, proveniente da Napoli Centrale, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.